Un arcobaleno di colori insieme ai profumi delle campagne del Capodileuca adorneranno anche quest'anno la strada principale di Patù con delle vere e proprie opere d'arte religiose pitturate con petali di fiori. La cittadina salentina si colora per il terzo anno consecutivo nella solennità del Corpus Domini con l'Infiorata che per questa edizione rientrerà negli eventi del Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capodileuca dei Finibus Terre, un'area di oltre 700 metri quadrati realizzati esclusivamente con soli fiori di campo grazie ad un mese di preparazione durante il quale negli 11 rioni di Patù oltre 400 persone hanno preparato i 22 quadri che nella notte tra il 28 e il 29 maggio prenderanno colore aiutati anche dalle mani di turisti e amici simpatizzanti che vorranno dare il loro contributo. Il tema scelto per quest'anno da Don Luigi Marzo, parroco di San Michele Arcangelo e ideatore dell'Infiorata, è l'Exultet della Misericordia. Sabato sera alle 20 e 30 il Vescovo di Uggento, Santa Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuli, benedirà l'inizio dei lavori, mentre domenica mattina alle 8 e 30 benedirà l'Infiorata realizzata. L'Infiorata di Patù ha raggiunto ai soli tre anni i livelli professionali ricevendo l'apprezzamento degli organizzatori delle famose infiorate di Noto in provincia di Siracusa e di Genzano in provincia di Roma. Per l'edizione di quest'anno sarà presente anche l'Associazione Camperisti d'Italia e diversi gruppi organizzati.